Buonasera, benvenute e benvenuti al Chiostro Nina Vinki. Diamo avvio con la pulce nell'orecchio, Carmelo Rifici e la sua compagnia, agli incontri dedicati agli approfondimenti degli spettacoli in stagione, gli incontri appunto quelli che coinvolgono la compagnia, gli attori in scena, in questo caso, caso particolarmente fortunato, anche il regista dello spettacolo, cosa che è un po' più rara qui al Chiostro, perché spesso quando gli spettacoli passano o quando programmiamo questo tipo di incontri, i registi non sono presenti e affidano agli attori, alle attrici il proprio lavoro e anche la comunicazione del proprio lavoro al pubblico in questo tipo di contesto. Carmelo, sono molto contenta di averti qui oggi per raccontare a chi non l'avesse visto, oppure per offrire magari la possibilità di porre qualche domanda a chi l'avesse visto ieri sera, lo spettacolo, la pulce nell'orecchio, da Fedò, un lavoro che tu hai messo in scena e che da pochissimi giorni ha l'HAC, avete avuto le prime due repliche lì e ora siete qui con noi. La prima domanda di Rito, quando appunto si lavora su un autore, Fedò è un autore, ne parlavamo nei giorni scorsi, che in Italia è agganciato fortemente al cliché del vaudeville, del teatro di boulevard, del teatro anche, possiamo dire, borghese, di intrattenimento, ovviamente legato al secolo XIX e ai primi anni del Novecento, epoca di esposizioni universali e di grandi trasformazioni e effettivamente epoca che in Francia è fortemente caratterizzata da questo genere teatrale. Una delle prime cose che mi hai detto in una conversazione che appunto abbiamo avuto nei giorni scorsi è stata questa, io ho fatto un lavoro sul testo, è un grande lavoro di sganciamento dal cliché. Ecco, prima domanda, come hai lavorato sul testo? È anche la domanda più banale ma forse anche più significativa, soprattutto in Italia, dove si pratica poco ultimamente Fedò, perché questo testo nel tuo percorso? Tanto buonasera a tutte e a tutti. Allora, come ho lavorato sul testo? La prima cosa che mi sono chiesto è come tradurlo, perché il testo francese è una lingua molto più scorrevole dell'italiano. Quando lo leggi in francese ha una scorrevolezza, soprattutto poi il francese ha, dal mio punto di vista, due virtù che non ha le vocali finali da pronunciare e quindi ti dà un ritmo che l'italiano non riesce a dare perché quelle vocali finali devi pronunciare per forza. E in più il francese ha comunque un'accentuazione tonica molto differente dall'italiano, quindi noi abbiamo questa accentuazione tonica che ci fa sempre battere le parole e dare quindi il ritmo a un testo dove in realtà non dovresti battere le parole ma levarle, mandarle tutte in levare, diventa estremamente complicato. Quindi la prima cosa che mi sono chiesto è come ritradurlo senza perdere lo spirito di Fedò, ma sapendo che avrei dovuto comunque tradirlo perché era impossibile appunto fare la stessa cosa. Quindi mi sono messo prima lì a fare io una traduzione e poi ho chiesto a Tiendolo Granata che recita anche nello spettacolo di aiutarmi in un adattamento. Perché? Perché mi sono reso conto che certi personaggi o certi linguaggi che in Fedò funzionavano proprio grazie alla forza del francese non avrebbero funzionato in italiano e quindi ho pensato come tradirlo nella maniera più intelligente, se si può usare questo termine. E ho pensato che la cosa più vicina a un tradimento pulito era immaginare di prendere, di vedere nel nostro panorama italiano dove potevano esserci quei personaggi che assomigliavano molto a quelli di Fedò e quindi rubare l'anima ai personaggi che io avevo visto nel panorama culturale italiano. Allora, e là inizia il problema perché in teatro non lo vedi. Non lo vedi perché a parte, infatti, a parte Mariangela Melato che infatti secondo me in qualche maniera aleggia nello spettacolo, a meno spero, e che riesce ad avere, a portare il colto e il popolare, e riusciva a portare il colto e il popolare con la stessa dignità, senza preoccuparsi di niente, se non quello di comunicare, è difficile che in Italia si trovino degli attrici, degli attori che abbiano desiderio di togliere il muro fra i generi. E quindi lo trovi molto nel cinema, non lo trovi tanto in teatro, lo si trova molto di più nel cinema, quella freschezza di un linguaggio che si muove tra l'alto e il basso è una cosa che hanno fatto i grandi autori cinematografici. E allora siamo andati a prendere da lì, siamo andati a prendere, ho cercato di comprendere di quei personaggi a quali altri personaggi avevo nel mio, diciamo, un bagaglio abbastanza importante di cinematografia italiana, soprattutto del dopo Seconda Guerra Mondiale, e sono andato a riscrivere alcuni personaggi e anche alcune battute, immaginando come le avrebbe dette Sofia Loren, come le avrebbe dette Anne Magnani, come le avrebbe dette Giovanna Ralli, come le avrebbe dette Lino Manfredi, come le avrebbe dette Alberto Sorti. Questo è stato il lavoro che ho tentato di fare e da lì è nato l'adattamento. È nato l'adattamento, tra l'altro tu hai usato una parola, parlando di traduzione, tradimento, il tradimento, giusto per dire due parole, il meccanismo di questa commedia, il tradimento, il supposto tradimento, è una delle assi tematiche ma anche dei motori che mette in moto la comicità e il sistema di incidenti che Fedot costruisce nella pulce e nell'orecchio. Insomma, diciamo che Fedot gioca molto abilmente sulla struttura di una commedia basata sul doppio e quindi sugli equivoci che nascono dal fatto che un personaggio ha esattamente un suo doppio. Abbiamo qui Fausto Cabra e non abbiamo... e Cristian, la rosa, che interpretano dei personaggi doppi, ma uno dei due ha un doppio, come dire, all'interno della scrittura di Fedot, quindi chiaramente due personaggi con la stessa faccia compaiono in momenti diversi o in momenti molto ravvicinati, generando una serie di equivoci. Il tradimento è anche un tradimento, diciamo, extra coniugale, è l'innesco della commedia. Una donna pensa che il marito la tradisca per cercare di smascherare il marito traditore, mette in moto questo carillon clamoroso di eventi, di equivoci. Quindi uno schema che trova da un lato un'origine molto antica e dall'altro però un riflesso molto specifico nella società del tempo di Fedot, da molti punti di vista. Quindi tu ti sei occupato... questa è una commedia, la commedia di partenza, diciamo, del 1907. Tu hai attraversato questo periodo tra 8 e 900, così interessante e denso, in molti momenti della tua carriera. Ecco, che cosa ci vedi di questo mondo, sia del teatro borghese che possiamo immaginarci e che però non si ritrova, cioè si ritrova ma si trova molto altro, sia di altri mondi che si possono intercettare qui dentro, anche mondi che tu hai visto con Schnitzler, per esempio. Almeno vedendo lo spettacolo l'ho visto molto. L'inizio del Novecento è un inizio spaventoso perché ci butta addosso una serie di eventi che abbiamo anche pensato di averli superati, però insomma non è stato un inizio di un secolo allegro, diciamo così, e la cosa non sembra essere finita. Però è anche l'inizio di una grande scoperta e di una cucitura molto importante perché fino a tutto l'Ottocento ci si immaginava che ormai, come dire, razionalità scientifica, economica, politica e l'irrazionalità del mistero e della magia avrebbero viaggiato per sempre in maniera separata. E poi grazie a Dio è arrivato uno che si chiamava Freud e ci ha detto che non era così. E questa cosa entra in tutta la drammaturgia di fine Ottocento, ma soprattutto la drammaturgia di inizio Novecento. Dappertutto c'è l'inconscio. Ma questo inconscio è collettivo, è un inconscio che comincia a dichiarare delle cose. E diciamo nei testi di altro genere, con un'altra, diciamo, almeno visibilmente una caratura di contenuti più forti dei fedo, o almeno nel visibile, apparentemente questa cosa viene forte, viene portata con una sorta di sottolineatura di una pulsione di morte della nostra società, che desidera che qualche cosa generi morte e che comunque ha a che fare con una società castrata nell'eros, dove l'eros, ma eros non visto come atto sessuale, eros come visto come atto vitale, viene cancellato. L'inconscio ce lo ricorda invece che questa cosa non è possibile, ci riapre delle pulsioni vitali e Fedo, rispetto ai suoi colleghi, tu hai citato Schnitzler, si potrebbe citare anche Chekhov in Russia, e Fedo dice, lo vede, non è che non lo vede, è chiaro che vede che quella pulsione è ferocemente, come dire, ormai incarnata nel pensiero borghese, però ha un altro desiderio, ha il desiderio di far riscoprire invece pulsioni di vita, pulsioni erotiche, perciò c'è sempre l'innesco erotico nei suoi testi, ma sono inneschi, nessuno fa l'amore con nessuno in quei testi lì, cioè non è quello il problema, il problema è far ritornare e risorgere la fantasia, risorgere il desiderio di trasgressione, di fantasia, che ogni donna e ogni uomo dovrebbero portare dentro di sé, perché senza quel dialogo con l'eros, la nostra vita è destinata a, sì, è destinata semplicemente a distruggere che c'è davanti, non ha nient'altro obiettivo che distruggere quello che c'è davanti. E poi arriva quest'autore relegato a un mondo della vaudeville, della pochade, che invece dice che secondo lui questa roba andrebbe guardata da un altro punto di vista e ce la fa guardare attraverso la lente della follia, dove per me, ma questo per me, il tradimento e il mondo erotico sono semplicemente uno specchietto per allodole, serve a far comprare il biglietto al pubblico, ma poi quando entrano in sala il pubblico in realtà è spinto a lasciarsi andare al disordine, al caos, al gioco, al gioco dei bambini, al gioco violento, al gioco dei desideri, a ridere, 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 perché rispetto ai suoi colleghi tende a voler far vedere la morte attraverso il suo contrario, invece i suoi colleghi fanno il contrario, tendono a far vedere la vita attraverso la dimostrazione che c'è una pulsione di morte, fa il contrario e questo chiaramente non piace agli intellettuali, non piaceva agli intellettuali, non poteva piacere, non piace al mondo accademico, non può piacere. No, infatti non piaceva al mondo accademico dei suoi tempi, però è stato un autore, ne parlavamo prima con la tua compagnia, che è stato riscoperto in Francia per esempio proprio negli anni 60-70. Eh, ma molto tardi. Esatto, del Novecento, che sono gli anni da un lato dello strutturalismo e dall'altro della critica psicoanalitica, per cui guardare alla struttura, guardando a Fedot, premia, perché effettivamente è estremamente interessante dal punto di vista strutturale guardare a Fedot, proprio per questa dimensione di girotondo, gioco, incastro, veramente estremamente funzionale nel creare il comico e dal punto di vista psicoanalitico è una grande e bella miniera per quello che tu dicevi prima. Però fino ad allora, anche in Francia, Fedot era relegato proprio alla dimensione commerciale. Sì, perché, dico solo una cosa che siccome serve sapere, perché a lui non interessa mostrare dell'evento analitico la bellezza della complessità. Lui è come se facesse uno schizzo. Lui fa uno schizzo e sei tu che devi leggere che là dentro la cosa è complessa. Ma lui non ha interesse a far sì che lo schizzo diventi un bel disegno, molto preciso, dettagliato, profondo. Lui fa lo schizzo e poi sta al pubblico. Da una parte sembra un escamotaggio, quasi un impoverimento, e dall'altra però permette al pubblico di entrare in un rapporto di altra natura con lo spettacolo. Se lo spettacolo funziona e riesce, certo, se lo spettacolo tende a fare il museo di Fedot con le porte e i letti e le cose, secondo me si diverte solo il pubblico che va ad ascoltare una storia di corna e basta. Di corna, assolutamente. E tu invece fai ben altro perché attraverso un allestimento che conserva il testo, con le incrostazioni che tu hai ben indicato, che ti sono servite per tradurre una lingua e un mondo, conserva degli elementi dell'originale ma apre proprio, a mio avviso, io ho visto lo spettacolo ieri, non voglio spoilerare e raccontarvi tutto, però qualcosa poi si intravede anche dalle foto che abbiamo pubblicato ovunque. Ad esempio l'uso dello spazio che voi fate e questo progetto di scenografia che firma Guido Buganza per te, mette molto in evidenza quello che tu stavi dicendo prima, cioè una dimensione di gioco. Ho letto, non mi ricordo se nella tua nota di regia o nella nota di scenografia, la parola playground, cioè proprio un luogo di gioco e gli attori e l'attrici della tua compagnia giocano letteralmente con degli elementi di scena che sono in gomma piuma, che hanno questa funzione di creare i due spazi principali che sono indicati dall'autore, che sono una casa e un albergo. La casa borghese, il salotto potrebbe essere una drammaturgia d'interieur, con l'interno borghese, col salotto e dall'altro l'albergo dove le coppie clandestine si incontrano, quindi due luoghi proprio cliché. Invece tu hai creato questo playground, questo parco giochi dei colori, dei marshmallows di Aribo, un mondo che uno dice, ma apparentemente straniante, che ha la funzione di liberare tutto quello che tu hai detto prima. L'unico elemento realistico è questo armadio. Esatto. E' l'unico che comunque l'armadio è il posto dove si nasconde il traditore, ma è anche l'armadio dove il bambino entra per nascondersi quando gioca e di solito in favole ci raccontano che dietro l'armadio si nasconde ben altro. Certo, è un armadio porta. L'armadio è nel nostro immaginario psicanalitico una porta verso, come dire, un'infanzia molto più, come dire, più vera dell'infanzia che viviamo realmente. Senti, Carmelo, cosa ne dici se iniziamo a interrogare qualcuno della compagnia che abbia voglia, come Fausto, Cabra, di venire qui? No, perché è stato lui prima a dire. Fausto. Fausto primo interrogato, ma poi c'è quasi tutta la compagnia. non solo perché sei qui in prima fila e il tuo regista ha fatto il tuo nome prima, ma perché è con Cristian, che non vedo mai. È lì, perché Cristian si nasconde di solito. Vieni a sederti. Cristian, vieni perché sei il prossimo interrogato. Sei il prossimo interrogato qui e sei poi portatore del ruolo doppio, per eccellenza, di Fedot. Allora, tu hai due ruoli, tre, che si sdoppiano ulteriormente. Possiamo dire i ruoli? Possiamo dire quali interpreti? Non svegliamo niente. Sì, sì, faccio uno spagnolo, faccio un dottore che poi diventa una Elisabeth Detalizzi. Esatto, quindi insomma, il gioco di questa moltiplicazione dei ruoli lo interpreti perfettamente. Come ti muovi nel playground di Carmelo, in questo mondo di Fedot ripensato da Carmelo per voi e per noi, naturalmente? Beh, effettivamente la parte veramente che più mi tocca è questo senso di genuina libertà, che è anche pulito, un andare in scena che si vede raramente, nel senso di dire giochiamo, iniziamo a giocare, poi le sovrastrutture vengono dopo, non prima, di sicuro, e giochiamo insieme. Quindi questo ritornare a quello che è le fondamenta anche del fare teatro con un pubblico, giochiamo insieme per il benessere di qualcun altro, poi da lì si costruisce anche un pensiero complesso. Questo un attimo fare, diciamo, pulire la tavola e ricominciare così, lo trovo anche in un certo senso politico oggi, visto com'è il contesto o iper intellettuale e che si sconnette sempre di più dal pubblico, invece di dire no, aspetta, ritorniamo a un collegamento con il pubblico, a fare per noi insieme al pubblico e vediamo di ripartire. Io penso di questo ce ne sia profondamente bisogno ed è la cosa che più mi ha sorpreso, oltre al fatto di pensare che nessuno avrebbe mai pensato che Carmelo Rifici facesse una roba di questo genere, nel senso che era totalmente fuori da quello che è la sua storia anche di regista. L'altra cosa che mi ha molto colpito, e lo dico da tra virgolette artigiano-artista, è ripartire dall'assunzione di rischio, cioè partire da ciò che non si è già fatto o che non si ha l'abitudine di fare, cioè mettersi scomodi. Non è il suo genere, nel senso che non l'ha mai fatto, eppure si è ritrovato bravissimo anche in questo genere. Però nessuno prima sulla carta avrebbe detto Carmelo che fa una commedia e fa un feidò, sembrerebbe così, sarebbe sembrato impossibile. Eppure anche questo è un atto politico, cioè di l'assunzione di rischio e il mettersi scomodi oggi. Perché poi è questa la testimonianza più grande che un artista può fare a un pubblico. Torniamo a defibrillarci e ripartiamo dalla fantasia e dal rischio e dal fatto che si può, si può anche andare in zone che non ci appartengono, che non conosciamo. E anche dal ritmo, perché questo è uno spettacolo che ha uno straordinario ritmo. Tu lo dicevi prima Carmelo, il ritmo, fedò, levare, battere, eccetera, gli accenti. Quindi voi il ritmo lo mettete attraverso la parola, l'azione, la musica che è qui presente e che sono linguaggi che colpiscono molto profondamente il pubblico. Ieri sera penso che abbiavate avuto una prova di quanto il pubblico fosse con voi, con una grande partecipazione, per essere poi una prima, che di solito le prime sono sempre un po' più freddine. Io devo dirti la verità, adesso parliamo di te Carmelo, quindi la cosa si fa più. Guardando al lavoro che voi avete portato in scena allo Streller ieri, certo anche io non avrei detto Carmelo che fa il comico, che bizzarro, che mette in scena il fedò, però forse si è capito anche da quello che gli ho chiesto prima. Io ci ho visto anche un po' Schnitzler, qualcosa che Carmelo ha fatto recentemente, quindi qualche traccia comunque di questo, non per fare per forza del pensiero complesso, non è mia intenzione, però forse un po' per così vizio professionale, ci ho visto anche un po' di quel mondo lì, di quei girotondi schnitzleriani, in tutto un altro accento, in tutto un altro mondo, e con una bella assunzione di rischio di tutti voi, perché anche molti della compagnia non praticano il comico, diciamo, tutti i momenti, anche perché il comico, Carmelo, si fa molto meno. Però senza una compagnia così non si riusciva a farci, nel senso perché secondo me devi scegliere gli attori che ti potranno permettere di fare una cosa che non è superficiale, che non è sciocca, capito, che sia invece... Profumo. Io non so se usare questa parola, però sicuramente loro hanno... Cioè si assumono questa cosa esattamente, proprio con una responsabilità molto bella, però era, come dire, bisognava... Io devo dire una cosa anche perché Fausto è qua, perché io ho chiamato Fausto e ho detto vuoi fare una cosa insieme? Lui mi ha detto sì, senza neanche sapere cosa andava a fare. Non sapeva niente, ha detto sì, sì, va bene, il periodo è questo, la vuoi fare? Sì, sì, quindi poverino. Cioè nel senso, magari uno poi arriva nel testo e dice ma questo è pazzo, cosa sta combinando? E invece questo è molto bello perché invece la compagnia è una compagnia dove i senior sono tanto giovani, in realtà sono molto giovani i senior, e poi ci sono tanti proprio invece giovani, giovani veri, però è bello perché loro sono responsabili in quello che fanno. Noi infatti ci sono arrivati anche con sudore, sudore e lacrime, cioè non è stato... Tutti quanti vedono lo spettacolo, sia a Lugano che qua, a quanto vi siete divertiti. Io no. Un po' sì, dai. Adesso, adesso perché vedo che la cosa diverte il pubblico, ma ti giuro che io sono spazzate notti che non ho dormito. Senti, io chiamerei Cristian, andrei avanti con i ruoli doppi per poi passare anche al mondo femminile, Marta, Marta Carlotta, che siete qua. Quindi facciamo così, come a scuola, prima due maschi, poi due femmine, non in ordine naturalmente gerarchico, ma solo per una questione di strutture drammaturgiche. Gerarchiche. Non se ne esce, non se ne esce. Non diciamolo, non diciamo. Eh, ma non se ne esce. Cristian, tu interpreti un doppio ruolo scritto da Fedot. No, ma Fedot, come dicevamo prima, questa è una commedia di doppi, c'è un doppio che è particolarmente efficace nel creare caos all'interno di un mondo dove il caos diventa appunto la cifra di racconto, perché interpreti il marito che nell'ottica della moglie, che è Marta Malvestiti, che è qui, che poi interrogheremo dopo, anche perché fa parte della, diciamo, categoria giovani o più giovani di questa compagnia giovanissima, e poi sei un servitore nell'altro luogo, nell'albergo. Ovviamente il caos regna perché ti si vede all'albergo e i fedifraghi supposti, perché poi tutti i ruoli si invertono, ma non devo raccontare troppo, si spaventano per la tua presenza e via così in un gioco infinito di riflessi. Ecco, faccio naturalmente anche a te le domande di rito in questo caso, no? Entrare in questa macchina, in questo mondo immaginato da Carmelo, come hai trovato le tue corde, la tua cifra con Carmelo? Allora, aggiungo a quello che ha detto Fausto una cosa che per me è stata fondamentale nel lavoro, credo per tutti, ma poi ognuno dirà, ma che è l'imprevisto, la gestione dell'imprevisto, perché la scenografia stessa è viva. Noi non sappiamo cosa sarà di quei cubi, non lo sappiamo. La scenografia è creata da tanti cubi di, che cos'è? Gomma piuma. Gomma piuma. Gomma piuma. Che cadono dove vogliono. Cadono dove vogliono. Questa sembra una stupidaggine, ma in realtà non lo è per noi, perché stare dentro una cosa che di per sé è materia viva, ci costringe ancora di più a stare in un perenne imprevisto. E questo credo che sia stato proprio la scintilla del lavoro. Carmelo continuamente, giustamente, ci diceva tanto non potete prevedere, non potete fissare, tanto non potete gestire, non dovete gestire. E questo è per un attore una grande sfida, perché poi gli attori si proteggono, tendono ad andare nelle zone di comfort per ansia, per paura, per autocritica, per qualunque motivo ognuno ha. Chiedere a un attore di gestire sempre degli imprevisti non è così semplice. Per me non lo è. Per alcuni altri forse di più. Però, e quindi, è stata quella la cosa. E in questa, diciamo così, libertà che ci siamo dovuti conquistare, ma che ci dobbiamo conquistare, anzi, adesso che iniziano le repliche, quello è il lavoro. Cioè, ritrovare quella cosa. Trovare i due personaggi con la guida di Carmelo, ma anche grazie alla libertà e a questi imprevisti continui che Carmelo ci chiedeva, che ci creava anche registicamente, credo che sia stata una cosa, usa una parola naturale, ma nel senso sono arrivate le cose, senza dover preparare troppo, suggestioni, cose, anche dagli altri compagni di scena, perché, come diceva Fausto, è giusto. Questo è un lavoro estremamente corale, di gruppo. È un lavoro dove la macchina funziona perché c'è un affiatamento, un gruppo, un ritmo interiore, ma che ci dovremmo passare. Questo è il lavoro. Per quanto riguarda la questione del doppio, sì, è vero, è l'unico doppio che è originale di Feido, però in realtà questo continuo sdoppiamento, e non c'è solo quello di Fausto, ce ne sono molti altri, magari meno evidenti, ma ci sono. Questo muoversi tra doppi in realtà ha reso tutto ancora più, torno a dire, imprevedibile, ma lo dico come cosa veramente positiva. La cosa, per dire in due parole quello che riguarda i miei ruoli, in realtà sono due vittime. Sembra strano, ma è così. sono due vittime, nel senso che il marito è vittima di un equivoco, prima di tutto. Non perché è vittima della moglie, anche, ma è vittima di un equivoco innanzitutto. Quindi lui sottosta un equivoco, perché l'amore, il marito, non è innamorato di nessun altro. cioè non è vero. Tant'è vero che quando arriva una donna che gli scrive, ci credono tutti tranne lui. Tant'è che manda un amico, dice no, non è possibile, non può essere per me. Mando te, mando te che sei più bello, figurati, avrà voluto scrivere a te. Quindi questa cosa è interessante, che l'unico che non cade nell'equivoco è lui. Poi ci cade per vie traverse, ma non cade nell'equivoco per primo. E questo è interessante. E l'altro è una vittima perché è un servo. Non è il proprietario dell'albergo, è il cameriere dell'albergo, è il tuttofare dell'albergo. E la cosa che mi ha divertito è proprio trovare due modi diversi di essere vittima. In qualche modo, ma più che altro come vivere il loro essere vittima. Vittorio Emanuele è una vittima consapevole di esserlo, ma cerca sempre di... Il dottore gli dice, siete brutto? Sì, sì, è vero, lo so. Sì, sì. Cioè, consapevole... E invece Buco è una vittima, però tutto sommato va bene così. È questa serenità, no? Con cui lui passa attraverso anche la violenza, gli schiaffi, le cerca, le riceve contento. Eh, c'è casino, sì. E allora? Posso uccidere? Sì, sì, tranquillo. Sì, cioè... Quindi questa... Forse l'amice è stata quella, semplicemente capire i due modi diversi di essere vittima, perché poi fondamentalmente quello che può anche essere interessante è che nell'ultima parte i due ruoli un pochino... Sì, ma per te? No? È una cosa interessante. Sì, forse è per il pubblico che non sa. Certo. Cioè, la... No, beh, questo bisogna dirlo. Cioè, nel senso che... Nel senso che Bucco, cioè il servitore, è il sosia di Vittorio Emanuele. Quindi la gente, a volte, se è Vittorio Emanuele lo chiama Bucco, se è Bucco viene chiamato Vittorio Emanuele, li scambiano continuamente. Però la cosa interessante di Fedot, quando lui dice, Cristian ha detto una cosa giusta, alla fine due personaggi, si capisce che al di là che sono fatti dallo stesso attore si assomigliano tanto. È dato dal fatto che fondamentalmente la commedia è molto intelligente. La commedia non è una commedia di equivoci, è una commedia dei desideri. In casa Vittorio Emanuele è a capo di un'agenzia di assicurazione con una moglie che vorrebbe tutte e tutti e tutto tranne lui. Perché proprio non lo vuole più. Noioso, perbenista, buono, finisce in un albergo dove c'è un servo che se uno gli sei vicino e gli dice dov'è che posso andare a ammazzare qualcuno? Dice vai là, la trovi qualcuno a ammazzare. Quindi il caos più totale, cioè l'imprevedibile più totale. E quello io credo che sia quello che desidererebbe essere Vittorio Emanuele. Cioè Vittorio Emanuele vorrebbe essere schiaffeggiato da qualcuno, capito? Il tema schiavo padrone è molto evidente. Hai detto una cosa molto interessante rispetto al tema dell'imprevedibilità. Cioè questo fatto di avere degli oggetti scenici, cioè degli elementi che costruiscono la scena, imprevedibili, che inseriscono l'imprevedibilità in tutto quello che fate. In fondo l'imprevedibile è anche uno dei temi di questa cosa, perché è vero che si parla di Fedot come dell'autore matematico che struttura tutto, però di fondo quello che noi vediamo è gente che entra dentro un dispositivo dove si crea questo caos e quindi è proprio la cifra della commedia, l'imprevedibilità. Certo, uno magari l'ha letta prima, sa cosa succede, ma uno che non lo sa entra in un carillon, entra in una giostra che poi è anche resa da questo spazio scenico che ruona. C'è una battuta bellissima della cameriera che dice questo non è un albergo, è un manicomio. Te lo dico io che è un manicomio. È evidente che qualcosa lì sotto c'è, c'è qualcosa di vero. Un mondo di pazzia. Tutto questo, mi permette di aggiungere solo una cosa, tutto questo però senza dimenticare che la macchina c'è. C'è. E quindi non si può uscire dalla macchina. Quindi la difficoltà è proprio muoversi all'interno di un'imprevedibilità, ma all'interno di un meccanismo che però è un orologio. Ma ce ne siamo accorti durante le prove, no? Un giorno Carmelo ha detto proviamo a tagliare questa cosetta, non tornava più nulla. Sì, sì, non è un cliché d'antologia. E quindi c'è dei tempi veramente quasi musicali e non è un caso che la musica sia dal vivo perché è necessaria in questo senso. E quindi è bellissima questa cosa che anche il tempo musicale noi ce l'abbiamo tangibile continuamente per tutta la durata dello spettacolo. e poi però all'interno ecco, allora lì lì può accadere veramente di tutto ma nella macchina bisogna starci per forza. Sì, sì, guarda, io ero tanti anni che non riguardavo Fedò proprio dai tempi ma neanche dell'università, forse prima. Io non mi ricordavo questa cosa che lui mettesse i numeri per indicare le posizioni degli attori sul palcoscenico. No? Perché ovviamente poi quando si guarda questi autori che fanno parte della storia del teatro magari non si approfondisce. si ripetono magari appunto come fa a proposito di cliché la matematica, la comicità, eccetera come nei comunicati stampa però è proprio vero. Lui comunque gioca su una struttura incredibilmente regolata e quella è poi la chiave del tempo che però nel vostro caso è anche un tempo musicale perché c'è della musica e a questo proposito farei un cambio della guardia e chiamerei Marta Malvestiti perché? Eh, perché loro devono andarsi a vestire Eh già, allora volevo interrogare te, Carlotta Eh, ma è tardi. Va bene, solo una cosa Marta Malvestiti è nel ruolo di Madame Chantubis quindi la moglie di Christian la moglie di questo signore così rigoroso, eccetera che, eh, insospettita da un dettaglio genera poi tutto tutta la macchina di questa commedia Eh, Marta tu, eh, io, cioè ho una particolare affetto per alcuni degli attori per tutti, naturalmente ma alcuni dei membri di questa compagnia vengono dalla nostra scuola ricordo che, eh, Carmelo Rifici oltre a essere il direttore dell'AC di Lugano è anche il direttore della nostra scuola di teatro e ormai hai al tuo attivo qualche generazione di qualche promozione chiamiamole così sapete che la nostra scuola ha un andamento triennale per cui ogni tre anni si fa un provino entra una classe viene diplomata e dopo tre anni entra un'altra e in questa compagnia e questo trovo che sia molto importante ci sono diverse generazioni non tutti gli attori vengono dalla scuola del piccolo ma molti in questa compagnia vengono qua per cui Marta tra cui me tra cui te io ti ho visto entrare alla scuola del piccolo adesso ti vedo in scena in questo ruolo cangiante e anche nel ruolo di batterista visto che parlavamo di tempo tu sei uno degli attori e delle attrici in scena che suona quindi ti faccio una domanda sul ritmo velocissima risposta poi vai a truccare perfetto va bene se dobbiamo parlare di musica cosa che ritengo sia estremamente interessante in questo spettacolo perché secondo me in qualche modo crea anche un cioè fa da legante d'apertura tra il pubblico e la e la scena anche perché poi cioè vabbè poi non a caso penso io suono la batteria il mio personaggio è estremamente dionisiaco e cosa c'è di più dionisiaco del ritmo e della rottura del ritmo penso che in realtà l'utilizzo della musica in scena proprio insomma in presa diretta rispetto a quello che sta succedendo sia una cosa che dà una marcia in più ancora allo spettacolo perché c'è una convivenza di elementi fondamentale che dà veramente qualche cosa di più di ancora più vivo allo spettacolo e io tra l'altro noi non siamo dei musicisti ma siamo bravissimi per dire l'idea e ancora ci siamo impegnati molto nella realizzazione dell'aspetto musicale e di questa costante attenzione rispetto alla amplificazione di quello che succede in scena per cui noi segnaliamo dei momenti che devono essere segnalati per qualche motivo poi io ah pensavo volessi parlare io tra l'altro ho iniziato a studiarla qualche anno fa la batteria proprio per una questione di ritmica cioè nel senso che quello che mi interessava non era diventare una batterista perché insomma non è tra i miei interessi però mi interessava applicare poi determinate cose che si possono imparare nella musica anche nell'utilizzo della parola ed è molto interessante questa cosa e e questo effettivamente funziona moltissimo perché i vostri brani musicali a parte che ci sono tanti suoni che sottolineano un po' un po' cartoon adesso non voglio essere offensiva perché il cartoon però sai col regista magari di una cosa no ci sono dei suoni che sottolineano le battute chiudono magari un momento una sequenza di dialogo eccetera e poi ci sono delle canzoni che sottolineano invece climi momenti passaggi e addirittura fanno anche d'apertura d'atto per cui un po' anche da sipario di introduzione per esempio la seconda parte si apre su un vostro pezzo ed è estremamente funzionale il racconto sì sì ci sono sicuramente dei momenti musicali che sono veramente funzionali interessanti perché rivolgono spostano l'attenzione del pubblico anche verso dei momenti in cui il pubblico deve andare c'è tutto c'è un motivo per cui c'è una scaletta di un certo tipo a livello musicale per cui si passa da girls just wanna have fun all'addio di Battiato e passando attraverso determinati anche accenni a generi diversi no jets che mi avano come vogliamo insomma dei momenti Nick Cave per poi arrivare appunto a una specie di di congedo no cioè il momento di Battiato apre a un congedo finale un po' malinconico e amaro molto bello nota su cui si chiude esatto va bene puoi andare no lo dico solo ti terrei qui sempre ma so che devi andare e volevo chiamare Carlotta Viscovo spero tu abbia un pochino di tempo per noi o anche tu devi andare devi andare anche tu abbiamo messo l'incontro le cinque proprio perché sappiamo che dovete truccarvi Carlotta tu appartieni diciamo se vogliamo dividere questi due mondi casa e albergo tu appartieni al mondo dell'albergo dell'albergo e sei la signora carcassa tra l'altro c'è anche mio marito Ugo Fiore non sta ascoltando non sta ascoltando è distratto eccolo là quindi poi faremo un secondo giro di mariti e amanti potenziali per cui preparatevi se non dovete già andare poi però lasciamo parola al pubblico piacerebbe farvi parlare tutti ma so se abbiamo il tempo Carlotta tu sei questa donna insomma abbiamo parlato prima di sfumature dark e devo dire che il tuo personaggio in questo mondo playground rosa ha una nota un po' nera alla porta sì decisamente non voglio spoilerare troppo sul mio personaggio vabbè sono limpia carcassa moglie del gestore dell'albergo l'albergo è definito nella prima parte come il sogno e insomma nella nella struttura che ha dato Carmelo è molto interessante come almeno per me è stato molto utile e credo lo sia per tutti il fatto che ogni personaggio che entra ha qualcosa di più parossistico è alterato di quello precedente ed è qui che riprendendo quello che hanno detto anche i miei colleghi in precedenza è è proprio interessante questo passaggio di palla che c'è e quando arriviamo all'albergo io sono il penultimo personaggio che entra quindi ha un livello di alterazione abbastanza elevato che però insomma abbiamo lavorato affinché non fosse una caratterizzazione esteriore quindi la grande messa in gioco che comunque appunto perché pensavo al termine gioco che nella sua accezione positiva ma in realtà il mettersi in gioco implica anche qualcosa di difficile no? perché implica il come dire l'affidarsi a qualcosa appunto di più inconscio più inconsapevole qualcosa di più legato alla nostra infanzia implica il fatto di togliere quelle barriere che un po' ci siamo creati per proteggerci e veramente affidarci e il viaggio fa sempre un pochino paura ma assumersi questa responsabilità in scena quando come dire appunto prima di saltare fa paura ma quando si salta poi si riesce in qualche modo a volare insieme a tutti gli altri con tanto c'è la gomma piuma se si cade non ci si fa così male è molto appagante devo dire ma la cosa che mi è venuta anche in mente allora ieri tra i commenti di alcuni spettatori mi hanno colpito quelli che mi hanno detto è proprio si sente tutto l'amore per il teatro per per quello che il teatro può offrire rispetto alla fantasia a come l'immaginazione può veramente muoversi a come il teatro ha la possibilità in senso dionisiaco davvero di essere trasformativo e questo è stato molto bello sentirselo dire e io trovo che sia un momento ormai non solo questo ormai sono anni che lo diciamo in cui bisogna recuperare anche il valore dello spettacolo dal vivo nell'incontro appunto anche col pubblico che ormai è sempre più abituato a essere passivo rispetto alla fruizione che ci dà un prodotto visto attraverso uno schermo e la commedia è un genere che va rivalutato anche perché il pubblico è assolutamente con noi quindi noi oltre cioè deve essere con noi dobbiamo essere bravi a farlo entrare in questo atto trasformativo dobbiamo portarlo a credere in qualche modo al sogno e e dobbiamo quindi accompagnarlo ascoltarlo e coinvolgerlo di conseguenza risponderegli ed è appunto secondo me un atto di amore verso quello che facciamo ed è bello molto bello grazie Carlotta io direi un applauso su queste parole al teatro queste parole bellissime che hai detto appunto travasando poi appunto la mia domanda molto più banale verso una dimensione però che restituisce molto effettivamente quello che si prova vedendo questo spettacolo certo il retroterra il sottofondo ma la grande giocosità la grande vitalità che voi esprimete in queste due ore e mezza di lavoro sul palcoscenico tra l'altro facendo una nota sempre registica e di adattamento questo hotel si chiama Hotel Fedot mi hai cambiato il nome e l'hai chiamato Hotel Fedot quindi l'hotel è proprio divertimento perché si chiamava l'hotel del micio innamorato sì esatto e non aveva molto però si vede che quel mondo l'hotel Fedot e l'hotel Fedot è la casa dei due sposi si trova in Largo Greppi Largo Greppi 1 quindi la casa il teatro esattamente quello che tu ci hai raccontato non so se abbiamo tempo per qualche altra testimonianza della compagnia no mi sa che devono andare loro perché se no non ce la fanno andare allora ringraziamo innanzitutto tutti gli attori le attrici grazie però forse c'è qualche domanda da parte del pubblico stasera mi raccomando stasera ha detto io non ci sono perché io non ci sono e a chi affidi di loro il controllo? a Tinder o Granata che ha a Tinder o Granata che ha qua? no però poverino c'ha 38 di febbre però vandrà in scena benissimo mi preoccupate tra l'altro straordinario anche lui nel doppio ruolo in uno dei ruoli divertenti perché qui o hanno una maschera spesso i personaggi fedono anche dei tic linguistici certo allora io libererei attrici e attori a cui farei un grandissimo applauso e riserverei eventualmente se ci sono domande da parte del pubblico le domande a te sì grazie davvero è di cuore per essere stati qui con noi ciao grazie ciao 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 ecco abbiamo sempre questo momento di panico sulla domanda se ci sono domande fatele ora o mai più io normalmente vengo a questi incontri che ho già visto lo spettacolo purtroppo per motivi logistici verrò la settimana prossima per cui avrei fatto molto volentieri qualche domanda ma sono impossibile di farla perché non ho visto esatto però ecco non è un silenzio grazie 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 solo per rompere il ghiaccio è stata molto gentile c'è invece qualche domanda o curiosità per per Calmeno Lirifici altrimenti lasciamo andare anche lui verso io l'anno scorso ho visto lo spettacolo di Galileo e quando ho visto in programma lo spettacolo di Fido devo dirmi è meravigliata e quindi però durante l'incontro ci ha spiegato e vediamo che sensazione da pubblico si può avere di fronte a un testo completamente diverso sì io penso però che questo sia una cosa molto come dire che è un po' un problema tutto italiano questa cosa di dover rispettare la propria personalità come se ci fosse un'etichetta della personalità che ha a che federe con il nostro essere italiani cosa che invece io penso che nessuno di noi cioè tutti dovremmo trovare il modo di tradirci o di o di metterci in una zona di scoperta poi io voglio dire una cosa su questa commedia nel senso che è vero è proprio una commedia nel senso che se il pubblico non ride e non risponde può godere comunque di alcune cose comunque dello spettacolo della bravura degli attori però sicuramente per gli attori può diventare molto difficoltoso se non c'è una risposta loro sanno cosa devono fare se non c'è una risposta perché diciamo che loro hanno tutte delle possibilità all'interno dello spettacolo e sanno anche che può succedere che qualche serata il pubblico è più freddo e loro comunque hanno la responsabilità di restituirgli il miglior spettacolo possibile comunque può succedere come in tutte le commedie può succedere però perché dico questo ma perché al di là della commedia quindi al di là del fatto che dice a Lugano la prima critica che è uscita molto positiva devo dire era però eravamo tutti terrorizzati a vedere rifici che per noi è quello che ha fatto il Macbeth quello delle relazioni pericolose quello doppio sogno quello di figenia che fa una commedia e poi la critica finiva dicendo ma in fondo ci restituisce sempre il suo amore verso la complessità però questa cosa qua che dovrebbe come dire inorgoglirmi in realtà mi mette una spia di allarme e dico ma perché dovremmo avere sempre questa paura nell'affrontare le altre cose e invece io penso che la cosa bella e poi Carlotta l'ha detto bene c'è un atto d'amore ma non è solo un atto d'amore io dico una cosa che spero non venga fraintesa noi stiamo vivendo un momento molto complicato perché siamo su una polveriera piuttosto e noi ci possiamo fare ben poco cioè oddio potremmo fare di più però insomma non mi sembra che in questo momento il popolo sia un fatto da ascoltare e non dico assolutamente e non vuole essere un segnale politico quello che sto dicendo è semplicemente che i giochi sono troppo oltre noi però ieri l'ex direttore di questo teatro Sergio Escobar mi ha scritto un messaggio molto bello mi dice anch'io ero stupito che tu facessi una commedia ma poi ho capito abbiamo veramente bisogno di lasciarci andare un attimo perché è troppo tragica la realtà e dice come sempre tu ci pensi a cosa bisogna il pubblico quindi e questa cosa mi ha fatto questo mi ha fatto molto piacere invece di dire ah si tradisce non si tradisce si mette in gioco non si mette in gioco è Carmelo che vuole far vedere che c'è un altro Carmelo no niente di tutto questo semplicemente bisogna ascoltare le cose bisogna ascoltare un po' il proprio istinto ma anche le cose le cose sono le persone e io sentivo come direttore lo sentivo all'Arc come direttore ma poi io sono a scuola e quando questi ragazzi sono entrati a scuola io dovevo fare un stagio quello di fine secondo anno che era il gabbiano di Chekhov perché io di solito a secondo anno faccio Chekhov che è un autore fondamentale per un attore e un'attrice giovane e siamo arrivati ad aprile e lo spettacolo poi a maggio si doveva fare e io dicevo allora ho preso cambiato ho fatto una commedia con loro perché avevano bisogno di ridere questi ragazzi avevano proprio bisogno di lasciarsi andare di ridere di scoprire una gioia nella vita perché se non riscriviamo questa gioia è chiaro che ci daremo in pasto a qualcos'altro e la gioia non è un fatto superficiale non è che ridono soltanto gli sciocchi si ride anche perché c'è bisogno di riscoprire che abbiamo voglia di vivere e quindi forse di lottare un pochino perché questa cosa l'ho imparato grazie ai giovani del piccolo che ne hanno fatto riscoprire che a volte bisogna smettere di stare come dire sopra la cattedra a insegnare ma ritornare in mezzo a loro e comprendere cosa avevano bisogno loro quando ho capito che loro avevano bisogno di quello abbiamo fatto una commedia sono andato dai miei collaboratori all'acca e ho detto preparatevi l'anno prossimo facciamo una commedia e così è andata e quindi penso che sia questa l'unica l'unica verità non che un regista debba dimostrare chissà che cosa un regista deve fare un lavoro serio con gli attori basta non deve fare nient'altro deve dimostrare niente forse a se stesso deve dimostrare qualcosa però in realtà deve fare un lavoro serio con gli attori perché ha una responsabilità nei confronti del pubblico per due anni abbiamo lavorato su Galileo era importante mi ha fatto un spettacolo che secondo me è comunque un spettacolo importante e quest'anno c'era bisogno di lasciarsi andare a un altro dio non della scienza ma un dio più antico che ci ricorda che siamo che Dioniso ci ricorda che siamo fatti anche di altro grazie Carmelo grazie mille su questo chiuderei l'incontro ti ringrazio di cuore per la tua presenza per le tue parole grazie a tutti e a presto grazie mille arrivederci